Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo episodio di Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 14 marzo 2019, nei video di oggi ci scaldiamo guardando CoinMarketCap, quindi commentiamo quello che accade al prezzo di Bitcoin e delle altcoin nelle ultime 24 ore, dopodiché affrontiamo ancora un tema molto interessante di cui abbiamo già parlato sul canale diverse volte, e sto parlando dell'alving di Bitcoin, per cui quel processo che riguarda la blockchain di Bitcoin che accadrà a maggio 2020 e è interessante parlarne oggi perché solitamente, perlomeno questo è quello che è accaduto le precedenti volte, il prezzo di Bitcoin inizia a reagire positivamente, quindi con un movimento rialzista, a distanza di 12 mesi rispetto alla data dell'alving, quindi ipoteticamente potremmo iniziare a vedere dei rialzi di Bitcoin a partire da maggio 2019. Quindi se vi sembra interessante ragazzi non dimenticate di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, cliccate la campanella come al solito per ricevere notifiche ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Partendo da CoinMarketCap vediamo che Bitcoin regge, abbiamo un prezzo unitario a 3.924 dollari su CoinMarketCap, rispetto a ieri più 0,45%, Ethereum più 0,18%, XRP meno 0,91%, Litecoin che sta performando molto bene più 0,72%, Litecoin è un'altra criptovaluta che in qualche modo, passatemi il termine, subisce l'alving dei propri block reward e l'alving di Litecoin arriverà ad agosto 2019 e se ricordate bene Litecoin si trovava qualche settimana fa al di sotto dei 20 dollari, quindi praticamente già un più 300% per chi ha investito in Litecoin qualche settimana fa. IOS più 0,13%, Bitcoin Cash più 4%, Binance Coin meno 1,83%, Stellar molto bene più 4,78%, Tether scende in nonna posizione scavalcato da Stellar, Tron più 1,24%, Cardano più 1,98%. Vediamo tra le prime 100 cripto che cosa c'è da segnalare? Qtum più 25%, ricordate forse che nel picco del precedente bull market Qtum addirittura aveva raggiunto un prezzo unitario superiore, credo ai 100 dollari, oggi siamo a 2,69$, quindi immaginate la magnitudine delle perdite di Qtum, però se è un progetto in cui credete a lungo termine potrebbe essere questo un buon momento per accumulare. LISC più 16%, Insight Chain più 9%, One Chain più 7%, Nano più 7%, Xem si rivede nonostante le cattive notizie uscite qualche settimana fa riguardo a questo progetto che aveva delle difficoltà economiche, più 6%, Omisego più 6%, Bytum più 6%. Guardando poi i dati globali di CoinMarketCap non c'è in realtà molto da segnalare, 134 miliardi di capitalizzazione, volumi leggermente a rialzo, 32 miliardi eravamo a 26 mi pare ieri, 51% di Bitcoin Dominance. Se andiamo a vedere poi come vi dicevo parlando di halving di Bitcoin, questo è il sito che è bitcoinblockhalve.com, è un sito che indica un countdown rispetto alla data in cui ci sarà l'halving di Bitcoin. Per darvi qualche dettaglio, precisamente come dicevamo l'halving è il momento in cui i block reward, per cui il premio che il miner in qualche modo vince per aver collegato un nuovo blocco alla blockchain, l'halving corrisponde al momento in cui questo block reward si va a dimezzare, per cui precisamente all'incirca il 24 maggio 2020, il block reward per i miner passerà da 12,5 Bitcoin a 6,25 Bitcoin. Precisamente che cosa vuol dire? Che visto che un blocco viene caricato in qualche modo sulla blockchain ogni 10 minuti, in questo momento vengono immessi nel mercato nuovi 12,5 Bitcoin ogni 10 minuti. Questo vuol dire che c'è una offerta di nuovi Bitcoin pari a 12,5 ogni 10 minuti. Quello che accadrà a maggio 2020 è che questa offerta di nuovi Bitcoin da in qualche modo inserire sul mercato, che poi i miners decidono se tenerli oppure venderli per pagare i costi del loro mining, si andrà a dimezzare passando a 6,25. Non è una questione temporale ma è una questione di blocchi. Precisamente questo processo avviene ogni 210.000 blocchi. Il precedente halving è avvenuto nel 2016, quello precedente ancora è avvenuto nel 2012. Inizialmente c'era un block reward di 50 Bitcoin, che si è poi dimezzato a 25, che si è dimezzato poi a 12,5. Il prossimo halving, come dicevamo, prevede la divisione da 12,5 a 6,25 Bitcoin per blocco. Qual è la conseguenza proprio a livello macroeconomico di questo tipo di processo? È che se supponiamo che la domanda di Bitcoin resterà perlomeno stabile o comunque, come speriamo, possa crescere, quello che accade è che l'offerta di nuovi Bitcoin sul mercato si va a ridurre esattamente del 50%. E quindi non ci vuole un mago di macroeconomia per capire che se la domanda rimane stabile o comunque sale e l'offerta si va a dimezzare, quello che accade è che il prezzo sale. E quindi quello che è sempre accaduto è che successivamente, dopo le date degli halving, il prezzo di Bitcoin è letteralmente salito con un forte movimento rialzista, ma quello che accade di solito è che il prezzo di Bitcoin anticipa l'arrivo dell'halving praticamente di 12 mesi. Questo vuol dire che storicamente, se andiamo a vedere questa è la chart di Bitcoin a livello settimanale, le linee verdi sono il momento dell'halving e le linee rosse sono invece 12 mesi prima dell'halving, come vedete sia nell'halving del 2012 che nell'halving del 2016, ad un anno precedente rispetto alla data dell'halving, il prezzo di Bitcoin ha iniziato a mostrare dei rally che sono molto interessanti. Quindi se andiamo a misurare le percentuali, 12 mesi prima del primo halving rispetto alla data dell'halving, Bitcoin pensate che ha preso all'incirca il 457%. Per quanto riguarda invece l'ultimo halving, quello che c'è stato nel 2016, se andiamo a vedere un anno prima, precisamente Bitcoin ha guadagnato rispetto alla data dell'halving poi un 182%. E' interessante quindi parlare in questo momento perché sappiamo tutti che siamo a marzo 2019, l'halving arriverà a maggio 2020, quindi 12 mesi prima dell'halving siamo a maggio 2019. Quindi questa linea rossa è teoricamente il momento in cui Bitcoin potrebbe iniziare a mostrare dei rialzi in anticipazione all'halving in arrivo nel 2020. Quindi in questo momento se andiamo a calcolare quanto manca esattamente sono precisamente 10 settimane, quindi 70 giorni. E collegando a questo argomento vi mostro un tweet uscito ormai il 23 di gennaio di questo account che si chiama Moon Overlord che praticamente dice esattamente la stessa cosa, per cui dice che Bitcoin per tradizione è iniziato a in qualche modo crescere un anno prima in media rispetto alla data dell'halving. Il prossimo halving è stimato in arrivo a maggio 2020, è stimato perché come dicevamo non è una questione di data ma una questione di blocchi, 210.000 blocchi. E quindi questo account che ha un numero discreto di follower, 43.000 follower, ritiene che l'uptrend di Bitcoin inizierà a maggio di quest'anno. E quindi sembrerebbe che se questi calcoli sono corretti e quello che è accaduto in passato si ripeterà anche in futuro, potrebbe essere che il mese di, la fine del mese di marzo e il mese di aprile saranno in qualche modo l'ultima occasione che avremo per accumulare Bitcoin praticamente al di sotto dei 3.500 dollari o addirittura dei 4.000 dollari. Quindi ragazzi per oggi è tutto, visto che avevamo condiviso nei giorni scorsi delle notizie in qualche modo negativo che rimangono perché lo stocastico vi mostro ancora qui che è ancora in zona overbought per cui sovracomprato e quindi ci aspettiamo un ritracciamento di Bitcoin potrebbe essere che il ritracciamento porti Bitcoin nuovamente a testare la media mobile delle 200 candele e quindi fermarsi all'incirca i 3.400 e 3.500 dollari per poi iniziare un vero e proprio uptrend. Quindi ragazzi per oggi è tutto, spero che sia stato interessante, fatemi sapere se avete dei commenti o delle integrazioni. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!